Un sorriso non costa nulla e rende molto. Arricchisce chi lo riceve, senza impoverire chi lo dona. Non dura che un istante, ma il suo ricordo a volte è eterno. E poi, se incontrerete chi non vi dona l'atteso sorriso, siate generosi e donategli il vostro. Perché nessuno ha tanto bisogno di un sorriso come chi non sa regalarlo agli altri.